L'apparitivo è nato a Torino più di 200 anni fa. Nel passare degli anni fu diffuso nel nord Italia e così è diventato un trend che piace a tutti. La sua forma però è cambiata tante volte. Nei giorni d'oggi, dopo il lavoro, la gente va con colleghi e amici al bar a fare l'apparitivo. Lì si beve accompagnando la bevanda da stuzzichini salati. Ma cos'è che si beva l'apparitivo? La birra, il vino e ultimamente va molto in moda lo spritz. Questa bevanda è composta da un terzo di aperolo campari, un terzo di prosecco e un terzo di soda o acqua frizzante. Lo spritz è una bevanda amara e poca alcolica. Ormai lo spritz si beve non solo al bar, nemmeno solo nel nord dell'Italia, ma anche nel resto d'Europa. E'scriviti al nostro canale. Grazie.